Il termico vedi tutto nero e le persone bianche Eh lo so ma non c'è Ah ho visto qualcosa da volare Eh è sul tetto Eh è sul tetto di dove stava l'elicottero di Victor Coglione Si però se vi mettete in mezzo per voi No se neanche sei in mezzo No si è buttato giù maledizio Chi è il pro adesso Io non ho capito la caduta del proiettere di quest'arma Ma io l'ho capito un po' di tutti Va avanti e poi va No la porta Dovrebbe essere la porta aperta Aia mi hanno colpito E' uno di Victor raga Può aprire e chiudere le porte Non ho le bende Lo vedo Vieni su fammi ti piace Sto tornando Ah sono laggiù sul tetto Sono una Victor Sono due Aia mi ha preso L'ho colpito in testa Ma cos'è che vuoi? L'ho colpito in testa di nuovo Come son morto Tiro per terra Ti colpisce Ok mi sa che non ci sono uno La fine La fine Abbiamo avuto lo scontro che volevamo In ritardo l'abbiamo avuto L'ha resa dei conti a Victor Si Oh mio dio Wow Vai L'ho colpito di nuovo in testa in movimento Aspetta Sono un cecchino L'ho ucciso L'ho ucciso E' macchetta Quello che è Eh mandala a me Ti è gassato uno davanti Ma le ho uccisi tutti per cazzo No quella è la mia Non prendere è roba mia è roba mia Sono tornati Sono tornati Ancora più in cazzo Aiuto 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 616 per Jacopo Si Due pallini sotto Per mirare laggiù Ok C'ho davanti coso Almeno uccidero lui Alla ci mettiamo il 16 Ho mancato Mi vedi troppo Mi vedi troppo Dormi Hanno ucciso il coso Hanno ucciso Kenny Brutti per stasso Io vado da finestra giù Ragazzi non mi è andato No 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 Qualcuno mi cura Un attimo Grazie Però ci mirano Mirano bene Sì ma io ho di più Ma un è Victor Che prima non ho chiuso Victor Sì un è Victor Allora Oh L'ho visto Io però l'ho ucciso anch'io Victor Non chiede di essere nuovo Di questo mondo Oh che fallo qui Ciao cari Ciao amici Prenda la minica Prenda la minica Prenda la minica No è la motosegherata Mi pigliatevo male Ciao amici Non fare poco Tente ai muri L'ha compito È da giù È da giù Sì Sì là sotto All'albergo L'ho copiuto il muro L'albergo dove? L'albergo è angolo a sinistra verso il bordo ma Sì Dì a Luigi di spegnere la torcia E ma E ma E ma Dì a Luigi di spegnere l'arma Vengi la luce Vengi la luce Vengi la luce Vengi la luce Wow perché non mi fa prendere la mia roba? Grizzly grazie Via raga Allora Ma dov'è? Era C'era quello vestito da poliziato che deduco sia Victor sul tetto opposto Mi servono civile Mi servono assolutamente civile però I colpi Ah no Io ho i È dentro l'utel Pianoterra Sono dentro l'utel Pianoterra No Fai spaccare le cariche Dove? No te lo immagini Era dentro l'utel Pianoterra Wow wow Capito No è dietro No c'è anche dentro Sono un po' ovunque L'ho visto Buttato giù Non l'ho preso È stato stalker Si è buttato giù Pianerra Non lo so Eh è morto lo dice Pianerra 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 L'ho colpito in testa l'ho ucciso E' non ammassato Non so chi l'ha ucciso eh No no L'ho ucciso io L'ultimo colpo l'è arrivato a me Ema 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 E ma? Io, nel senso, io ho ucciso con la poliziotto, vestito la poliziotto Porca troia i colpi, ho l'ultimo caricatore Ok, lì c'è un altro, eh, a me mancano pochi colpi Dov'è che sono? Sono sempre là sotto Eh, uno sta facendo tutti più all'altro Attenzione Eh, Luigi, accetta Luigi Ci serve più potenza di fuoco Ce l'hai delle cure? Sopressione, soppressione L'ho colpito in testa, mi sa che è morto Io faccio soppressione, voi andate Dove stanno? Mi sa che ho ucciso uno, vedi là dove c'è la macchia di sangue In colpito in testa Non facciamogli avvicinare Non ne hanno il diritto Questi hanno un C4, attento Noi invece abbiamo una forza più grande La forza della no Ah, l'ho colpito due di vita Uno di vita, muoio Mi ha colpito Stai coperto, stai coperto, stai coperto Vai, Kenny C'è un cecchino per me Eh, Jacopo, vai chi survival Serve un M.R. Serve un M.R. Aspetta, devo prendere la roba, intanto Maledetto, il suo notturno Ogni volta che lo metto Mi stanno cercando di alcirarli, raga Tranquillo, noi siamo più bravi Ma dov'è Luigi? Non lo so, mi sei andato giù ed è morto L'ho mancato Lo vedo L'ho mancato L'ho mancato Anche io Qualcuno mi ricura Un'altra volta sto morendo Un'è la, un'è la Penso eh Si, 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 lo vedevo muoversi Ah, muoio Maledetto Ci servivano le granate Vai, è morto, è morto Vai Aspetta Ok, era Accetta 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 Cazzo è facile Ah, è lì Sono tutti due lì di nuovo Non mi sono mai diventato Con più di testa, con più di testa Mi ha messo male Lo rivedo, lo rivedo Sono sempre laggiù al garage È all'entrata, è all'entrata Mi hanno preso raga pure È all'entrata Ok, credo aveva l'ucciso Ok Si è morto, è morto All'entrata è morto Chi è questo qua? È potente sto faro, non so che sia Grizzly Ricarica anche io il grizzly E dopo si fa Ok Ok Questo gioco si va in tre Io ce lo off-count Ma i contadini funzionano meglio Ti do il cyber tutto, se lo vuoi I contadini No, lo count è più forte C'è un piccolo turno la giunterra Mi dà un fastidio Si, hai visto, lo vedi anche te Sentite, io faccio una cosa Lascio qua la mia roba E scendo giù e provo a prendere un po' di roba Ah, si è buono Come idea Però voi dovete coprirmi tanto Si Li vedo Dov'è? Ha colpito la testa Sono laggiù al garage Ah, l'ho colpito malissimo No, non è Uno non è al garage Uno è dietro la torre Allora non vado Non vado Fammi TP Non vado allora Raga, qua ci conviene andarci Non per dire qualcosa Me ne andrò solo quando sentirò le esplosioni Ok? È in mezzo al nulla È in mezzo al nulla È dietro l'edificio L'albergo 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 Ok Dove sono? È uno è in mezzo al nulla Verso casa di Victor Sulla destra A ore Due dell'albergo E l'ho colpito in testa E' andato a rifugio a dentro Oh mio dio E' ero caduto Sono caduto nella persiana aperta Ho visto Ho un Grizzly Magazine per te 5 Oh E' nell'edificio Nell'edificio di nuovo Qual'edificio? Nell'hotel L'hotel Dove erano prima Aia mi hanno colpito 20 di vita Sto morendo di nuovo E non l'abbiamo bene Ho visto i mirini laser Colpito al petto E' morto Raga sto morendo Nessuno ha Dove sei? Nessuno ha bende Sì io invece sì No perché mi bendo me? 5 di vita 3 di vita Ce la fai? Non esisterai Senti di vita Ah Fate che il survival Mi prendete lo zainetto Non sto facendo ogni 3 secondi Anch'io Ma io sono l'unico che non si va a beccare Oh è di secolo che moriamo Chi è? Stai zitto Chi è? Oh aah Oh aah M'ho capito Chi è? Allegheny Chi cazzo è Allegheny? Eh sei convitto? No Li vedo sono lì sotto Definisci lì sotto Entrata L'ho colpito in testa più volte L'hai visto? Anche da altre parti Non me ne fiega il tutto Caraggio Ma non colpito L'ha colpito L'ha colpito due volte Ok aspetta mi curo mi curo Ok Ci sono Ok dai oh 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 Tranquilli tranquilli E' morto l'ha? Non lo so L'ho sparato due colpi in testa ma Quello al garage non lo so Quello all'entrata L'ho sparato due colpi Però lo so C'è qualcuno? Ah sono caduto di sotto Mi serve un mre Mi devo curare assolutamente Lo vedo Madonna ma anche colpito male Ce l'ho avuto le cure E' là al hotel Però è tipo esterno Jacopo Ti ricordi tutti i dressing che avevamo? Si Sono finite Queste sono le ultime razioni Ma porca troia Spera sempre a me Eh raga Qua dovremmo tirarlo su un muro Un muro è più vuoto Si tiriamolo sul muro Quale? Ma c'è il tpi E' molto in mezzo E' c'è Luigi che fa soppressione E' morto Kenny Non è proprio quella mia roba Noo Jacopo Mi sono arrivati solo due Raffa 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 Noo Dopo te la do Mi prendi un po' di Roma So dove? Eh eh Sai dove? Allora 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 Grazie a tutti.